Studi di Teletruria per questa grande festa delle mittenti, insieme con noi l'amministratore delegato Paolo Dottori. Amministratore, è un'occasione questa di festa, ma anche in fondo per rilanciare l'impegno della televisione? Sì, abbiamo preso lo spunto della festa, 50 anni di Teletruria, è un momento importante, direi anche storico, anche dal punto di vista nazionale, perché siamo in pochi a essere arrivati a questo traguardo. E poi è anche un momento di cambiamento, un momento dove l'azienda si sta rimettendo in gioco, dove stiamo andando al passo con i tempi, dove abbiamo programmato e abbiamo cercato di rivivere con il passato e il presente, vedere anche il futuro, il futuro più attuale, con nuovi programmi, nuove idee, una visione più attuale, più giovane, adeguata ai tempi. Le sfide quindi non devono impaurire? No, le sfide non devono impaurire, anzi io sono un uomo di sfide, a me piacciono le sfide, mi mantengono giovane, ci mantengono giovani e le sfide sono fatte per essere affrontate ed avere dei traguardi da raggiungere e sicuramente noi lo raggiungeremo, perché le sfide devono essere mirate. E dobbiamo dire proprio in occasione di un anniversario importante per Teletruria? Questo è un anniversario importantissimo, tant'è che abbiamo poi alcune delle nostre glorie che rappresentano 20-30 anni della nostra televisione, questa è una serata direi quasi storica.